Un impegno per promuovere una migliore coscienza civica ed automobilistica nella città di Napoli, in particolare fra i giovani. Con una cerimonia informale che si è svolta presso il Circolo del Tennis in Villa Comunale, l'associazione 15 maggio 2011 ha consegnato un autovelox al comandante della Polizia Municipale, generale Luigi Sementa. Il tema della serata era aiutateci ad illuminarvi, ovvero identificare sette strade di Napoli che necessitano di maggiore illuminazione per migliorarne la sicurezza. È un'altra tappa delle iniziative di un'associazione nata in memoria di Gian Maria De Gregorio, Oliviero Russo e Gianluca Del Torto, i tre ragazzi che persero la vita il 15 maggio in un tragico incidente in via Petrarca. In precedenza erano già state presentate petizioni e collette alimentari. Insieme con l'autovelox è stato presentato da parte del presidente della Municipalità di Chiaia, Fabio Chiosi, un preventivo per le strisce pedonali rialzate con cateri frangenti da collocare in via Petrarca.